Ciao a tutti! In questo video per tutti voi è una figura veramente molto semplice da fare, ma allo stesso tempo molto molto carina, cioè l'ape. Per questa figura ci serve solo un palloncino giallo. Il palloncino giallo va lasciato sgoste di più o meno 4-5 dita. Facciamo il nodo e poi facciamo una piccola torsione per formare la testa dell'ape, circa di 4 dita. Questa torsione la andremo ad unire più o meno verso la fine del palloncino, a 8-10 dita di distanza dalla fine. Quando siamo in questa situazione siamo pronti per fare le ali, schiacciando a metà questa parte e facendo una torsione. Ecco qua, la nostra ape è già finita, ci mancano solo da disegnare gli occhi e le strisce. Ed ecco qua, la nostra ape.